Buongiorno, oggi parleremo di menzogne, di bugie. Ti sei mai chiesto se la persona con cui stai parlando dice la verità? Come capire se sta mentendo? Bene, molte volte la fretta di giudicare conduce a fare errori di valutazione. E allora ci sono alcuni segni distintivi del bugiardo patologico. Uno di questi è porre la distanza tra sé e l'oggetto del discorso. Come avviene in questa frase? Non ho mai parlato con quella donna, ma mi sembra una persona poco raccomandabile. In questo caso chi mente lo fa cercando di mettere distanza tra sé stesso e la persona da screditare. I bugiardi più semplici da individuare sono coloro che tendono ad affermare la loro sincerità con frasi del tipo a dire la verità, oppure onestamente, o in tutta onestà, eccetera eccetera. Poi ci sono quelli che forniscono molti dettagli irrilevanti. Un altro aspetto tipico di chi tende a mentire è l'uso prolungato di pause mentre si racconta un fatto. Questo accade perché chi mente tende ad avere bisogno di più tempo per elaborare un concetto o per rispondere ad una certa domanda. Inoltre è assodato che per costruire bene una bugia noi tendiamo ad arricchire di troppi dettagli il nostro racconto. Le persone mentono quando riempiono i propri racconti con tantissimi particolari che però sono del tutto inutili. I detective sanno bene che chi mente non è in grado di ricostruire la sua versione partendo dalla fine e procedendo quindi al ritroso. In questo caso la persona esiterà o cercherà di prendere tempo, il che significa che probabilmente sta mentendo. Anche il linguaggio non verbale di chi mente è eloquente. Infatti involontariamente chi dice bugie dispone i piedi in direzione di una uscita. A meno che non ci troviamo di fronte ad un bugiardo patologico che mente per professione e quindi è un po' più allenato a farlo. Tuttavia vale sempre la regola generale che mentire è una attività piuttosto stressante e quindi chi lo sta facendo non vede l'ora di scappare da una qualche parte. Anche lo sguardo è importante per capire se una persona sta mentendo. In genere le persone prima di mentire spostano gli occhi in alto a destra così, nella zona del campo visivo che in PNL prende il nome di visivo costruito. Io ho dedicato un'intera playlist ad illustrare gli studi della PNL. La potete trovare nel mio canale YouTube dove ci sono molti altri video. Inoltre vi informo che faccio consulenze video con la videochiamata oppure consulenze telefoniche. Per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio. Come funziona la consulenza? E specificando poi il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre vi suggerisco di visitare il mio canale YouTube perché potrete trovare oltre 400 video suddivisi nelle varie playlist dal narcisismo alla manipolazione psicologica e linguistica e via dicendo. Inoltre sono presente su Facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho anche aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo!